Iniziamo dalle note negative, sicuramente un punto in un campo dove non è facile raccogliere punti, il secondo gol per te nel giro di quattro giorni, rimane un po' di rammarico per la vittoria sfumata proprio negli ultimi minuti, però una grande prestazione contro una delle squadre più attrezzate per vincere il campionato. Certo, tutto giusto quello che hai detto, il rammarico c'è perché prendere gol al 92esimo fa sempre male, quindi adesso subito dopo la partita c'è un po' di rammarico, però dobbiamo anche vedere le cose positive su un campo difficile contro una squadra, secondo me, fortissima che a livello di palleggio ci ha messo in difficoltà, ci ha messo in mezzo, abbiamo creato meno delle ultime volte. Però abbiamo portato a casa un punto lo stesso importante. Chiaramente era anche difficile perché nel giro di sette giorni ci sono state tre sfide, tre sfide impegnative, di cui due in trasferta con Ancona e Rimini, quindi sicuramente non banali, però come dicevi tu rimangono tante note positive. Poi chiaramente ora una settimana tipo per preparare un match, quello con Limolese, che rappresenta chiaramente uno scontro diretto per l'obiettivo salvezza. Sì, era una settimana lunghissima con tre partite ravvicinate e forse potevamo portare a casa qualche punticino in più, però come già ho detto prima dobbiamo vedere le cose in modo ottimista, in modo positivo. Abbiamo adesso tutta la settimana per prepararci al meglio e secondo me a livello di atteggiamento, a livello di determinazione siamo comunque sulla strada giusta. Grazie.